Il verbo si cresce carne e pose la sua timora in mezzo a noi. Il Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande stupore, ma l'angelo disse loro, gli annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un salvatore. Che il Cristo Signore, questo per voi insegna. Troverete un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. I pastori, meravigliati e assorti dalla visione celeste, con fede, si incriminarono verso il ventilenne. Grazie. 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 Grazie.